Il carabinieri fa la maresciata, ma orca miseria, sono disperato. Perché che ha fatto? Ho comprato due cavalli, ma io s'annuso, non s'annuso, io non so se è il periodo di monta o se sbaglio quello che gli do da mangiare, ma non riesco a distinguerli. Dice, prova a rasare la criniera a uno dei due, così magari li riconosci meglio. Dice, vabbè, prova a far così, dopo un po' e fa, no, c'è il stesso problema. La criniera gli è ricresciuta, io non riesco a distinguere uno dall'altro. Sono tutti e due uguali, non riesco a capire quale il maschio, guarda la femmina. Dice, guarda, prova a tagliare la coda, no? Magari gli è durata più. Poi questo c'è prova, c'ha ragione, c'ha ragione maresciata, prova a tagliare la coda. Niente, la coda ricresce, questo disperato come prima. Dice, no, che posso fare? Guarda, guarda attenta a me, magari uno dei due è più alto dell'altro. Oh, mi hai dato un'idea. Questo torna e gli fa, maresciata, c'aveva ragione, il cavallo nero era più alto di quello bianco, dei 5 centimetri.